La pittura. In fatto di pittura Alife non offre più alcun esemplare di rilievo perché quei pochi frammenti che si rinvennero nella necropoli di Conca d'Oro furono portati via. Fortunatamente il Dressel ne ha lasciato una sommaria descrizione assicurando che le pitture provenivano dall'interno di una sola tomba costruita in lastroni di tufo rivestiti d'intonaco sul quale erano dipinte. Erano pitture ad affresco, sistema questo usato, come si sa, per la decorazione della casa ed anche per la tomba, la quale, per gli antichi, rappresentava una seconda casa in cui dimorava lo spirito del defunto. Quattro erano i tradizionali colori adoperati in questo genere di pitture nero, bianco, rosso e giallo, che gli artisti sapevano trasformare per mezzo di mescolanze e adoperare caratteristicamente con l'aggiunta di alcuni altri, blu e verde, per i dettagli. Il chiaroscuro era sconosciuto per cui quest'arte era una specie di disegno dipinto. Tra gli affreschi alifani vi sono, un frammento, con una figura giacente, sopra un letto, innanzi al quale è situato un basso tavolino a tre gambe. Il panneggio della figura è dipinto con color rosso e giallo, giallo è pure il tavolino. Un altro frammento con una donna seduta, a sinistra, sopra una sedia i cui piedi sono curvati. La donna appoggia il braccio sinistro sul bracciolo del sedile e tende la mano destra. Nel panneggio si osservano righe gialle, i contorni della figura sono tracciati in nero. Altro frammento con donna rivolta a destra verso una figura virile sedente, forse ignuda, della quale non rimangono che le gambe e una mano. La donna sorregge nella sinistra un gran piatto rosso, nel quale sono tre frutti, fra questi un melograno nella mano destra, abbassata, tiene un secchiello nero. Essa veste un chitone stretto di color rosso, che è cinto da una lunga cintura gialla, le corte maniche sono ornate. Interno di un sepolcro di tufo con pittura fresco. Da due file di piccoli bottoni bianchi, una lunga fila di bottoni le scende dalla cinta ai piedi, un'altra fila adorna il chitone lungo i fianchi, mentre, anche il bordo orizzontale della veste appare ornato di puntini bianchi. Vi è in un altro frammento una figura di un giovane vestito di una giubba a maglia dalle maniche corte e strettamente aderenti alla persona, che giunge appena fino all'addome. Il giovane, il quale è rappresentato in atto di avanzare rapidamente a sinistra, porta due aste in spalla, dalla parte superiore delle quali pende qualche cosa indicata con color rosso. Questo dipinto, in cui tutte le parti della carnagione sono di color rosso molto carico, è di esecuzione meno buona dei precedenti. In un altro affresco appare un guerriero vestito di un corto chitone bianco, le pieghe sono espresse in nero, stretto da una larga cinta gialla, nella quale sono indicati tre cerchi neri. Sembra che avanzi celermente a destra, tenendo nella sinistra uno scudo forse tondo, e nella destra una lancia in posizione orizzontale. Anche in questo frammento la carnagione è dipinta di rosso. Una figura cavalcante appare in un altro frammento, cavallo e figura. Sono dipinti in rosso con contorni neri. Altrove, poi dei cavalli, sono disegnati a soli contorni in nero. In un altro frammento vi sono una tigre ed un leone di fronte, la tigre è rivolta a destra, il leone a sinistra, eseguiti piuttosto a contorno. Alcuni pezzi con soggetti ornamentali, una palmetta, sono dipinti in rosso e in nero in modo che questi due colori si alternano. Ora, riguardo alla tecnica di questi affreschi farò notare che, prima della esecuzione col colore, si tracciò sull'intonaco una specie di abbozzo del disegno mediante uno stilo o altro strumento. Ed è pure notevole la pronunziata tendenza di marcare i contorni delle cose rappresentate con una linea nera. Gli avanzi descritti permettono di riconoscere con sicurezza due scene diverse e ben distinte. Una cioè riferibile ad un convito l'altra a una pompa funebre. Soggetti che ottimamente convengono alla decorazione di una tomba. Possiamo quindi supporre con certezza quasi assoluta che sopra uno dei lati lunghi si trovava una volta dipinto il convito, al quale si riferiscono alcuni dei frammenti. Nell'altro lato lungo erano rappresentati i giochi funebri. E finalmente che i due lati stretti erano decorati l'uno con animali, l'altro con ornamenti decorativi. Nel 1948 nel giardino Cirioli in via Gianfrancesco Trutta, a circa due metri di profondità venivano alla luce, insieme a un bel mosaico a tesselle. In bianco e nero, dei frammenti di affreschi raffiguranti piante e fiori. È un esemplare finora, per quanto sappia, unico di pittura murale dentro le mura. L'arte musiva. Le pareti decorate della Domus Romana avevano il loro completamento nei pavimenti a mosaico. Ma mentre delle pitture parietali alifane non c'era rimasta prima del 1948, alcuna testimonianza, dei pavimenti a mosaico invece ne abbiamo continue prove. Come rileva il Trutta, come ne avverte il della Corte, e come risulta da alcuni frammenti conservati nel Museo Alifano di Piedimonte. Ove si trovano anche altri piccoli frammenti rinvenuti incrostati sui ruderi dell'antico acquedotto che dalla sorgente del Torano portava le acque ad Alife. In tutto l'Alifano non è che un continuo affiorare di mosaici. In Contrada a Torelle ad esempio nel confine tra Piedimonte e San Potito Sannitico, ad una profondità di mezzo metro dal terreno di campagna, non sono pochi questi pavimenti. Tutto ciò prova lo sviluppo dell'arte musiva fra noi fin dagli ultimi anni dell'età repubblicana, sviluppo dovuto principalmente alla solidità, bellezza e freschezza a chi procurava tal genere di pavimento, e che proprio per questo divenne di uso comune. Consiste, come si sa, nella connessione di cubetti di marmo colorato, delle dimensioni di un centimetro circa di lato, in modo da comporre, con la studiata combinazione dei colori. La simulazione di un dipinto. Quest'arte particolare, proveniente dall'Asia, fu coltivata dai greci, ma i romani non rimasero inferiori ai loro maestri nel dare consistenza e splendore al pavimento musibum, di cui i più belli esempi si hanno in Pompei ed Ercolano. Si può dire che nessuna cosa all'interno della casa romana superava in bellezza il pavimento. Per la verità devo dire che di tanti pavimenti rinvenuti nella zona nessuno porta scene o ritratti, animali o motivi floriali. Quasi tutti hanno delle combinazioni geometriche, cioè meandri, greche, intrecci, eccetera in nero. Solo qualcuno porta le combinazioni geometriche in nero e in rosso. Industria delle terrecotte. L'esistenza di un'industria fittile nell'Alifano è stata sempre ignorata, e quando si è trattato di rinvenimenti di vasi, statuette, oggetti di terracotta, se ne è sempre attribuita l'origine all'antica capua. Riservandomi di fare una revisione di queste attribuzioni con uno studio comparativo. Limito per ora il mio studio sull'esistenza di una fabbrica di terrecotte nelle contrade Alifane. La scoperta veramente fu casuale e si verificò nel 1935 in seguito al ritrovamento di alcuni oggetti antichi nella località Lefate in Contrada Conca dell'Arena di San Putito Sannitico. In un primo momento si pensò che il materiale provenisse da qualche tomba ma di queste non si trovarono tracce. Si pensò poi a un tempio votivo o saccello, ma anche di questo non si rinvennero avanzi. Si seguitarono intanto gli scavi per conto della regia soprintendenza alle antichità, cui si era dato conto delle scoperte, e dal terreno vennero fuori parecchie migliaia di frammenti fittili di tutte le specie e forme. Nonché un bolino di selce bionda, oltre cento pezzi quasi integri consistenti in statuette, testine, braccia, mani, piedi, gruppetti, maschere. Lampade, di cui una della capacità di tre quarti di litro, coppe, vasi, lagrimatoi, pignatte, coperchi, palmette ornamentali, tubi per conduttura, pesi romani di svariate grandezze, e un busto femminile velato. La mancanza quindi di tombe o di tempi sul luogo, le migliaia di frammenti rinvenuti, il bolino da servire per incidere sull'argilla fresca. La grande varietà degli oggetti destinati a tutti gli usi della vita pubblica e domestica, che vanno dal tipo artistico al tipo grossolano, e la stessa natura argillosa di un terreno vicino che serviva naturalmente da cava, dimostrano chiaramente che nella contrada era in perfetta funzione, nel 3 secondaria avanti Cristo. La lavorazione delle terrecotte. Ritengo però che forse nell'Alifano dovettero esistere altre fabbriche del genere perché la quantità del materiale fittile rinvenuto, allora e dopo, non è tale che una sola fabbrica avesse potuto soddisfare le esigenze della popolazione sparsa in tutto il territorio alifano e forse anche delle popolazioni delle contrade vicine, come Telese e Cagliazzo. Che sia così è dimostrato dal nome di Alifane e dato alle grandi coppe di nostra fabbricazione, come viene attestato da Orazio. Ne ritengo che la industria limitasse il suo campo alla lavorazione dei fittili di uso comune, giacché proprio da San Potito ci pervengono altri prodotti artistici. Abbiamo, ad esempio, una coppa verniciata in nero, lucida, con figure dipinte in rosso mattone. È di argilla depurata, dalle pareti alquanto sottili, sulle quali sono due scene di danze. Nella prima si vede un amorino che balla e suona il tamburello a sinistra e a destra di lui due baccanti, vestite di lungo chitone bene aderente al corpo, ballano anch'esse. E pare che un abbia nelle mani le nacchere. Nella seconda scena si appure un amorino al centro, con il tamburello, in atto di ballare, con altre due baccanti ai lati che danzano vestite con lungo chitone aderente, ma coperte di velo, questa coppa si rimvenne in una tomba costituita da lastroni di tufo grigio, nel fondo colucci in territorio di San Potito Sannitico. Questo è un fine lavoro di pittura vascolare che imita efficacemente il disegno e la pittura dei vasi attici. Un altro vaso, poi, ma di fattura trascurata, proviene da Alife. Ha da un lato una testa femminile diademata, di profilo, volta a sinistra, e dall'altro un uomo togato, fermo di fronte a una colonna sulla quale poggiano cinque uova, quali inferia i mani, mentre nel campo vi sono un ramoscello di mirto e una cintura di lana. Senza tener conto di tutto il materiale fittile, escludendo il laterizio, elencato dagli studiosi delle antichità alifane e che è andato ad arricchire pubblici musei e collezioni private. Il solo museo di Piedimonte tiene fino ad oggi raccolte parecchie centinaia di pezzi diversi di terracotta provenienti dal ladro alifano. Il che prova che questa industria doveva essere qui fiorentissima, tale, insomma, da sostenere la concorrenza delle fabbriche campane. Malgrado queste vantassero un primato artistico per la perfezione raggiunta con i loro prodotti.